bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi come sapete come avete già visto nei prossimi gli scorsi video sul canale la patch 4.3 è arrivata ragazzi l'aggiornamento tanto atteso che introduce un sacco di novità sia a livello grafico che a livello di gameplay è finalmente disponibile per tutti ragazzi e guardate tra le novità che cosa hanno aggiunto al cratere ragazzi sono apparsi degli alberi ragazzi guardate che roba questo sta a significare ragazzi che c'è vita nel cratere ragazzi questo potrebbe voler dire che probabilmente la stagione 5 come già avevamo anticipato prevederà che il cratere sia nuovamente con la vita probabilmente ragazzi tornerà tutto ad essere verde e avremmo solamente nel proseguio delle stagioni un ricordo di quello che è stato lo stravolgimento del gioco nella stagione numero 4 ovvero sia quando è caduta la meteora ragazzi andiamo di nuovo a riguardare dall'alto sappiamo tutti ragazzi che ci sta succedendo qualcosa per quello che riguarda omega per quello che riguarda il meteorite che potrebbe tranquillamente ragazzi essere un nuovo se Sylarx mi fa un attimo le scale per favore che così salgo anche io che no ce l'ho fatta ce l'ho fatta grazie Sylarx come vedete ragazzi come vedete gli alberi sono nel magazzino come vedete ragazzi c'è di nuovo vita e sicuramente avrà a che fare con quello che riguarda la stagione numero 5 di fortnite non sappiamo ancora nient'altro abbiamo visto anche che è arrivato il carrello della spesa disponibile dalle 11 e mezza circa di oggi giovedì 30 maggio e abbiamo visto anche il nuovo la nuova funzione di rimborso che è entrata e il nuovo negozio che adesso ci fa vedere le skin che vogliamo acquistare sia con lo zaino che senza appunto parlando di carrelli appunto parlando di carrelli ragazzi arriva Sylarx di prepotenza e anche se non lo posso sentire perché li ha buttati questo ragazzi ci sparano Sylarx scappa barro spaziatrice barro spaziatrice bravo Sylarx via 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 buttati a magazzino buttati a magazzino di nuovo torniamo a magazzini con il carrello poi Sylarx vai Sylarx c'è un tipo quello avanti c'è un tipo quello avanti che non ci spara si sta sparando hanno sparato Sylarx hanno sparato Sylarx via 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 aspetta le grandi fuga le grandi fuga con il carrello scappa scappa non mi puoi prendere scusami Sylarx aspetta 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 ragazzi come vedete ecco parlavamo ringrazio ovviamente Sylarx per avermi portato il carrello guarda 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 il carro si può anche ragazzi con tab spostarsi via 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 di nuovo via di nuovo l'ignoranza veramente l'ignoranza veramente ragazzi di Epic Games non ha limiti non ha limiti ragazzi non ha limiti guardate che storia guardate che storia ragazzi meraviglioso meraviglioso questo carrello veramente veramente eccezionale va bene ragazzi io direi che per questa live per questo video è veramente tutto abbiamo visto i carrelli abbiamo visto gli alberi le novità non mancheranno io vi ricordo di restare aggiornati su questo canale per non perderne neanche una noi ci vediamo in live ciao ciao